Se si farà, non sarà così. La cerimonia di insediamento del Presidente, che Hugo Chavez fece cinque anni fa dicendo con voce stentoria, patria, socialismo o morte, lo giuro, dovrebbe tenersi di nuovo il 10 gennaio, ma non è detto che Chavez possa esserci. Se ci sarà, sarà in sedia a rotelle o in barella dopo l'operazione subita a Cuba per cancro. In Parlamento c'è chi propone un rinvio della cerimonia, altri ricordano che in caso di non insediamento si dovrebbe procedere a nuove elezioni entro 30 giorni. È il Vice Presidente Nicolás Maduro che sta sostituendo Chavez alla Presidenza a fare il punto della situazione. Giorno per giorno, dice, il comandante Chavez recupera e per questo noi abbiamo una sola ipotesi, Chavez ci sarà. In caso contrario, lui ha dato disposizioni chiare e pubbliche per ogni evenienza. Chavez ha subito l'intervento una settimana fa, ieri i medici lo dichiaravano stabile dopo un'infezione respiratoria, non è un decorso facile. Per questo ogni giorno migliaia di persone pregano per lui e funzioni religiose vengono organizzate nei luoghi simbolo del potere. Grazie a tutti.